Crack BPV. Se il processo per il fallimento della Popolare Veneta si ferma per la pausa estiva per le vittime e gli ex risparmiatori, l'estate sarà invece calda. Entro fine luglio, infatti, dovrebbe essere pronto il decreto ministeriale che darà il via libera ai 180 giorni di tempo per presentare le richieste di rimborso in base a quella che sarà la documentazione prevista dalla Commissione. E già gli ex risparmiatori sono in fibrillazione. Le associazioni sono al lavoro convocando incontri e assemblee. Abbiamo organizzato tutta una serie di incontri con le amministrazioni comunali, domani sera saremo a Gagliera Veneta, martedì prossimo a Isola Vicentina, mercoledì ad Asolo. Perché bisogna prevenire, bisogna già organizzarsi prima, perché è importante avere i documenti bancari che attestano l'acquisto di questi titoli. In questa direzione è già un mese che siamo con Banca Intesa, facciamo le domande, c'è la massima disponibilità della banca a dare i documenti. Richieste di rimborso che potranno essere presentate singolarmente o attraverso le associazioni dei consumatori o dei risparmiatori e non con legali, in quanto la legge ne farebbe espressamente di vieto. Mentre si ricorda che gli unici parametri per la scelta di quale percorso per il rimborso sono i 35.000 euro di reddito e i 100.000 euro di patrimonio. Gli altri dovranno subire un vaglio. Risparmiatori tutti rimborsabili, d'altronde nell'udienza di martedì scorso è emerso che il CDA non poteva non sapere, ma anche un altro importante aspetto. È emerso un ulteriore elemento con estrema chiarezza, cioè il pagamento preferenziale nei confronti di alcuni soci delle loro azioni. E parliamo sempre dei soci più capienti, cioè parliamo di milioni di euro, mentre gli altri soci che avevano pur chiesto le restituzioni sono sempre stati pretermessi.